buongiorno a tutti benvenuti ad un'altra intervista della call for craft oggi abbiamo il piacere di avere stefanie con noi ciao stefanie buongiorno allora tu ci racconti del progetto di froleman che non ho pronunciato sicuramente bene tu lo pronuncerai meglio di me e è un progetto sull'artigianato artistico e sulla pelle e su un viaggio che fanno le persone con te nell'ambito del design i prodotti particolari e quant'altro ma raccontaci un po la tua storia da dove vieni e cosa ti ha portato a froleman perfetto sì allora io vengo di base vengo da un percorso universitario linguistico che prima di fare un lavoro artigianale ho fatto ho studiato lingue francese inglese e però durante lo studio ho sentito che non era per me che era troppo astratto teoretico teorico mi sa teorico va bene confondo sempre e ho iniziato come passatempo di cuscire a casa a un certo punto la stoffa l'avevo l'avevo usata l'avevo provato ho provato di lavorare con la pelle molto sottile per poterla cuscire con la mia macchina di casalinga insomma di hobbista e mi è piaciuto molto e ho continuato a provare di lavorarla anche anche la pelle più spessa poi cuscita a mano incollata con i rivetti insomma e dopo dopo l'università dopo che che avevo finito ho trovato un tirocinio in una bottega artigianale a berlino dove abbiamo fatto riparazioni di articoli di pelletteria di qualsiasi tipo di articolo avevamo valigie vecchissime scarpe ma soprattutto borse e allora ho imparato lì di riparare le borse e di fare occasionalmente una produzione su misura secondo i desideri del cliente e durante la formazione ci hanno detto che c'è la possibilità con Erasmus Plus di partire dopo la formazione durante o dopo la formazione per qualche mese all'estero io ho deciso di farlo dopo la formazione e ho fatto quattro mesi di tirocinio qui a Firenze nella bottega artigianale di nuovo dove abbiamo fatto piccole serie di borse portafogli cinture e dopo un anno e quattro mesi perché poi ci ho lavorato per un anno con un contratto normale dopo che ho deciso di trasferirmi a Firenze visto che c'era questa occasione di lavoro dopo un anno ho deciso di creare la mia ditta Frau Lehmann che è un accenno alla mia origine tedesca Frau che vuol dire signora e Lehmann che è una versione del mio cognome ok quindi tu hai fatto proprio il percorso artigianale come alla vecchia maniera proprio il lavoro della bottega prima a cioè quindi parti da una passione che hai scoperto autonomamente e poi hai seguito il cammino del quasi il viaggio in Italia alla Goethe e il Grand Tour e poi ti sei fermata a Firenze dove appunto hai dato origine alla tua bottega quindi da da apprendista maestra maestra artigiana sì a artigiana poi maestra ancora no ancora forse maestra no però artigiana sì 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 la mia la mia spinta per mettermi a conto mio era per avere più libertà nel mio modo di lavorare che ovviamente io ovviamente se sono impiegata devo sempre rispettare i desideri del capo e visto che mi ci sono presa anche tardi a questa formazione artigianale non avevo più 16 18 anni come tanti ragazzi ce l'hanno io avevo 28 mi sa quando ho iniziato avevo troppo test troppa testa mia per continuare come impiegata e allora sì ho fatto ho fatto questo salto ecco è la testa tua dove ti ha portato? qual è la testa tua? cosa dice? è la testa tua? ho messo un po' nei guai ti ha messo nei guai la testa tua? no allora mi ho portato ora sono in una piccola bottega via dei seragli al confine di Santo Spirito e San Frediano quindi nel cuore della Firenze artigiana proprio ecco bravo sto facendo soprattutto lavorazioni su misura borse personalizzate provo di avere sempre anche qualcosa in vitrina per quello che cerca una soddisfazione più veloce del bisogno di una borsa un portafoglio però sì la maggior parte dei miei lavori sono ecco ma come funziona? perché una cosa molto bella che sta venendo fuori da queste interviste è proprio che lavorate molto nell'aspetto della personalizzazione quindi proprio andare a ritrovare la persona il desiderio della persona l'estetica, l'identità della persona perché chiaramente una borsa personalizzata deve adeguarsi a me e quindi c'è dietro uno studio, una ricerca, uno scambio, un confronto come funziona il tuo percorso di costruzione di una borsa io vengo da te e ti dico voglio una borsa personalizzata allora di solito funziona così devo dire che sono molto fortunata di solito c'è dei clienti che sono molto preparati che prima sono andati sul mio sito hanno un po' guardato i modelli che ho e se non hanno trovato niente lì mi portano di solito foto o disegni delle cose che hanno in mente e io faccio delle domande su come trattano di solito io ti chiederei come tratti le tue cose le tratti bene o sei piuttosto ruvido perché dipende poi quale tipo di pelle consiglio per la borsa e basato su quella limitazione non limitazione ma su quella specificazione escludo già una bella parte di tipologia di pelle tipo se tu mi dici che vuoi una borsa che non cambia col tempo che rimane lo stesso e che sei piuttosto cauto tipo che stai attento a come tratti le tue cose ti posso consigliare una pelle conciata al cromo a pieno fiore bellissimo delicatissima e che invece se sei un po' più selvaggio che la prendi la sbatti dappertutto te la porti ecco e vuoi il cambio dell'aspetto della borsa ti consiglierei una pelle conciata al digitale senza tinta naturale che poi diventa più scura quindi diciamo sostanzialmente la borsa che va ad accompagnarmi nella mia caratterialità quindi se sono un po' più disordinato o mi piace un certo che bella questa cosa perché poi e la forma invece sul gioco della forma come come lo fai guarda io non so che forma ho il computer sempre dietro un paio di libri due cose mi piacerebbero un po' di spazi per delle penne cose varie e quindi lì poi si parte da quello per poter sperimentare la lavoglia a zaino oppure la con la maniglia quindi ecco bello bello dimmi dimmi ad esempio ti faccio un esempio l'ultima borsa grande che ho fatto era per un un coltivatore di vino un fabbricante di vino nel Napa Valley in California ok che ha ordinato una messenger bag che lo permette di portarsi dietro quattro bottiglie di vino per degostazioni e l'ho fatto anche in portabottiglia in cinghie di pelle leggeri si possono anche schiacciare senza che si danneggiano se devi mettere altre cose nella borsa e mi ha pure chiesto lo spazio per quattro tappi di sughero con gli elastici per portarli infilare dentro la borsa in un posto loro e lo spazio per il cavatappo allora lui ha proprio la borsa che da fuori sembra una borsa normale di lavoro però è una borsa fatta per qualcuno che fa il vino che deve portarsi le bottiglie dietro e si può anche infilare su un troll di viaggio perché dietro sul retro c'è il compartimento quindi c'è proprio un'ingegnerizzazione dell'oggetto per trovare le migliori soluzioni quindi appunto io ho il computer invece persone rappresentanti appunto che hanno altre tipologie soprattutto per le persone che lavorano con un certo stile in un certo modo presentarsi con un oggetto come questo è un bel cambiamento sì molto bello senti e invece tu mi sembri già abbastanza internazionale appunto e che lavori appunto parli di Napa Valley quindi realtà anche particolari come ti ha aiutato la la Call for Craft a migliorare la tua attività e che cosa ti ha portato ti ha dato la Call for Craft allora mi ha dato mi ha allargato tanto l'orizzonte per le possibilità per come usare i social media ovviamente perché si parlava soprattutto di questo mi ha aiutato anche se lo devo ancora fare per bene di finire meglio il cliente ideale diciamo il mio target group e purtroppo ancora non ho potuto mettere in opera tanti dei consigli delle cose che ho imparato ma perché si alla fine da quando è finito sì da tre due mesi e mezzo ecco ma allora sì c'è tanto da mettere e beh sì è un percorso molto intenso che chiede tante tanta attenzione ora per fortuna essendo tutto registrato uno se lo può riutilizzare anche in diversi momenti temporali senti e per chi ti cerca e vuole incominciare a chiacchierare con te per sviluppare anche appunto pezzi unici incredibili rispetto a quella che è la la propria cosa allora hai detto dov'è la tua il tuo atelier la tua bottega allora la bottega è in via dei seragli al 61 rosso ok a Firenze e se no sono anche disponibile su Instagram su Whatsapp cosa devono cercare su Instagram e Whatsapp no Whatsapp lo troveranno dal sito immagino un numero di telefono e si collega a Whatsapp Instagram Instagram è Frauleman il profilo è quello quindi come il sito il sito se non ricordo male è Frauleman punto com tutto in una parola sì ecco così via email e quindi possono condividere con te immagini cose dice guarda io faccio questo vorrei una borsa così anche foto di altre borse per farti avere un'idea di quella che è la direzione e incominciano a a dialogare con te per trovare la migliore soluzione poi tu cosa fai gli mandi dei bozzetti che hai avuto delle idee sì allora purtroppo quello ancora non sono molto brava a disegnare però sì di solito si riesce di riesco di farvi capire e anche i clienti insomma sì sì fino ad adesso abbiamo sempre trovato le migliori soluzioni a volte io quello che mi piace fare sia un progetto proprio nuovo basato su un disegno che faccio per la prima volta e che faccio una miniatura all'inizio anche per rendere un'idea migliore dei colori che hanno scelto forse se sono due colori o più colori e e poi faccio anche il prototipo di un materiale non è pelle ma è un materiale simile alla pelle ah così lo vedi anche dal vivo c'è un'idea più chiara di come wow sì e se a distanza perché lavoro anche tanto con persone che non stanno in Italia mando video foto anche per descrivere la pelle ormai ho abbastanza abitudine per per rendere bene trasmettere il senso sì 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 anche se oppure se le persone si trovano in Italia in Europa posso anche mandare campioni della pelle ad esempio bello che dire Stefani è stato molto bello conoscerti e scoprire questa bottega in cui i sogni prendono vita le idee e le cose che uno può mettere insieme e ti ringrazio ci sentiamo presto e ci ritroviamo sui canali del MIP ciao va bene ciao Enzo grazie ciao grazie a tutti